Questa non è solo una webserie, è anche un museo delle meraviglie. Qui, davanti a voi, tre portafogli magici di tre epoche molto lontane tra loro. 1584, protagonista della pillola 108. 1775, protagonista della pillola 106. Anni 2000, protagonista di questa pillola. Nella sua versione contemporanea, il portafoglio magico consente di mettere una carta sotto la X e dopo averlo chiuso e riaperto, la carta si trasferisce magicamente sotto le due linee parallele. La cosa può essere ripetuta più e più volte e ogni volta, magicamente, la carta cambia settore. Nel 2014 lo avevo usato per raccontare l'accanimento giudiziario verso Chiara, Mattia, Nicolò e Claudio. Quattro compagni notav rei di aver sabotato un macchinario. Rischiavano trent'anni di carcere. La X rossa ben rappresentava lo stato di reclusione. Chiudendo il portafogli, passano in un attimo cinque anni. Oggi la Cassazione ha rigettato l'accusa di terrorismo, i quattro sono liberi e l'opposizione all'alta velocità è più viva che mai. Ora è sempre notav. Un giorno a qualcuno viene l'idea di sfruttare lo stesso collegamento che c'è tra le due tavolette del portafoglio magico e applicarlo a una sequenza più lunga di tavolette. Nasce così questo oggetto chiamato Scala di Giacobbe. La Scala di Giacobbe consente di presentare vari effetti magici. Questo per esempio è un'illusione ottica che dà l'impressione che una tavoletta cada dall'alto. La Scala di Giacobbe era chiamata anche magnete di legno perché se si tenevano collegate tutte le tavolette tranne una, quest'ultima poteva oscillare a destra e sinistra come se fosse attratta da una forza magnetica. Un'idea molto originale l'ha avuta Riccardo Rampini Zadig che ha trasformato la Scala di Giacobbe in un biglietto di auguri. Sui due lati della Scala si legge Buon Natale, poi chiudendola e riaprendola sulla stessa Scala si legge Felice 2019. Grazie Riccardo, una realizzazione straordinaria. Grazie a tutti.